C'è un affare, ma per portarlo a termine ho bisogno di gente come te. Si tratta di un lavoretto facile facile. Banca Centrale d'Europa. L'ultimo venerdì del mese, un blindato va a ritirare il contante da distribuire alle filiali. Fatto un rapido calcolo. 10 milioni di euro, ma sminno. Fammi la fine da questa pagliacciata, colù. Che cosa vuole lei? Da me. Voglio sapere che hai a che fare con un uomo della mala romana. Diremo insieme al razzo, per Toretto. Il Toretto che sta cercando armi, è un uomo. Il Toretto mi ha fatto ammazzare i miei padri all'occhio. Cioè doveva morire in prigione. Non c'ho paura di nessuno, là giù. Quando cambi te? Mai. Non c'ho paura. Eh… No non c'ho paura di nessuno, là giù. iffeva.